Giussi Ferrara, quest'oggi siamo qui per parlare di questo concorso che si tiene, si terrà ancora nella città di Paola perché è stato istituzionalizzato, quindi un concorso importante che si avvia al suo principio. Ci vuole parlare un pochino della soddisfazione che si ha nel tenere queste cose soprattutto nella prospettiva di questi concorsi. Intanto la ringrazio per questa chiacchierata che faremo e che mi dà l'opportunità appunto di spiegare bene l'importanza di questa decima edizione del concorso internazionale Giovani Musicisti Città di Paola, premio San Francesco di Paola. Ripeto, una manifestazione importante non solo perché è arrivata la decima edizione ma perché consideri che mediamente nelle nove edizioni precedenti ha portato a Paola circa mille partecipanti da tutta Italia e dall'estero. Si svolgerà quest'anno dal 25 al 31 maggio presso l'auditorium Sant'Agostino e mentre la serata finale sarà come ormai di consueto al Teatro Rendano il primo giugno in cui avremo una serata di gala con il concerto dei vincitori e la cerimonia di premiazione. La settimana che si svolgerà Paola sarà una settimana incredibile di musica a 360 gradi dalle 9 di mattina alle 9 di sera. Quindi veramente una settimana intensa che offrirà anche a coloro che hanno il piacere di venire ad ascoltare della buona musica e musica anche molto diversa per repertori e per formazioni. Un'opportunità veramente incredibile perché una settimana intera di musica non è da poco ma soprattutto sarà, offrirà l'opportunità, sarà una vetrina importante per i tanti giovani talenti che studiano e che avranno così l'occasione di dimostrare il loro valore, il loro impegno. Quest'anno siamo cresciuti anche come numero di categorie e siamo a 21 categorie. Abbiamo tutte le categorie per quanto riguarda i solisti di musica classica, quindi tutti gli strumenti e naturalmente suddivisi in sezioni di età. Poi abbiamo la categoria musica da camera in qualunque formazione, la categoria canto lirico, cori e tutto il comparto scuole, quindi scuole medie indirizzo musicali, licee musicali e questi sia in formazione solistica, sia in ensemble e sia in orchestre. Poi abbiamo una categoria a cui teniamo particolarmente che è la categoria progetti speciali scuole a cui possono iscriversi tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado che abbiano realizzato un progetto musicale. Novità di quest'anno è la categoria composizione. Ci siamo aperti anche ai giovani compositori che dovranno comporre quest'anno come prima composizione, una composizione per pianoforte che tra l'altro verrà anche eseguita durante la serata di gala e non solo la vincitrice perché porteremo i tre finalisti in serata di gala e lì presso il teatro Rendano, come dicevo, il primo giugno la giuria decreterà il vincitore ma ci sarà anche un vincitore da parte del pubblico. Ultima delle categorie però a cui noi teniamo particolarmente anche è la categoria dei cantanti di musica leggera, interpreti e cantautori naturalmente anche questa suddivisa in sezioni di età. Naturalmente quello che ci fa piacere è che attraverso questo concorso non soltanto noi offriremo a questi giovani delle borse di studio in denaro e poi i famosi attestati di merito che tutti cercano, le coop e quant'altro, ma dei premi importanti che riusciamo ad avere anche grazie a partner importanti che ci affiancano in questa manifestazione e abbiamo per quanto riguarda per esempio la sezione canto lirico un partner fortissimo che è l'Aslico di Milano Teatro Sociale di Como che offrirà delle masterclass gratuite e anche una scrittura artistica per un corista nella stagione lirica del prossimo anno. Sempre in questo settore abbiamo anche l'associazione Resonance di Roma che offrirà delle masterclass di canto lirico e di pianoforte e dei concerti. Per quanto riguarda la categoria composizione abbiamo una casa editrice, la Preludio Music di Milano, che editerà il premio e la composizione del premiato del primo che si classificherà in questa categoria. Sul territorio la Calabria risponde veramente molto molto bene e abbiamo a fianco praticamente tutte le associazioni più importanti, le istituzioni più importanti. Offrono concerti che poi sono il premio che maggiormente serve a questi giovani musicisti perché dà loro la possibilità appunto di entrare in un circuito artistico, di suonare all'interno di stagioni prestigiose. Dal Conservatorio di Musica di Cosenza all'associazione Verdi di Rossano, dall'associazione Beethoven di Crotone, all'associazione di Reggio Calabria. Sono tutte molto molto vicine. Abbiamo anche come partenariato, un altro partenariato importante con l'associazione Amici della Lirica di Verbicaro che organizza un workshop lirico nel mese di agosto e offrirà ai nostri vincitori non soltanto la partecipazione alle masterclass ma anche proprio l'assegnazione dei ruoli. Per la musica leggera abbiamo due situazioni che mi piace sottolineare. Intanto il presidente di giuria, alle giurie sta lavorando ancora il maestro Luigi Stillo che è il nostro direttore artistico, però questa la possiamo anticipare. Il presidente della giuria di canto leggero sarà Ruggero Pegna che è venuto già più volte al nostro concorso e lui verrà proprio a cercare delle voci interessanti da fare esibire nei suoi concerti live. E poi abbiamo a fianco anche una etichetta discografica, la Rocca Produzione, che sta cercando degli interpreti a cui affidare degli inediti e curare poi tutta la realizzazione, la produzione dell'inedito, la promozione. Offrirà anche delle registrazioni professionali ai vincitori delle varie categorie, sempre di canto leggero. Insomma devo dire siamo veramente molto soddisfatti. Non vorrei dimenticare nessuno. Mi preme ricordare anche il Teatro Gambaro di San Fili che rientra tra le residenze teatrali calabresi e anche loro ospiteranno in questo caso il brano vincitore della categoria composizione all'interno della stagione del prossimo anno. E quindi capisce bene insomma che il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi è pazzesco. Naturalmente ci auguriamo di avere una risposta buona perché nelle nuove edizioni passate è stata così, perché devo dire che il nostro concorso è apprezzato sia nel mondo accademico che ovviamente tra i giovani. C'è una bellissima situazione tra l'altro cioè c'è il ritorno negli anni anche di giovani che non hanno vinto ma perché apprezzano appunto il concorso, la sua organizzazione, tutto quello che è anche intorno al concorso che cerchiamo di curare. Il premio ovviamente il più bravo tra tutti vincerà il premio assoluto che è il premio San Francesco di Paola insomma che ci ha fatto piacere istituire tanti anni fa. È stato il primo premio istituito al nostro santo ed è anche quello che continua a rimanere nel tempo quindi forse è lui che ci sostiene e ci spinge ad andare avanti. Naturalmente il premio San Francesco di Paola oltre la borsa di studio in denaro e quanto dicevo prima vincerà un concorso all'interno della stagione dell'associazione musicale Orfeo Stillo, la stagione Armonia Arte a Palazzo, la prossima edizione che sarà la ventisesima edizione. Ecco da questo punto di vista è bellissimo poter sottolineare che ciò che corre sotto il nome di Orfeo Stillo, ovvero c'è un'associazione, un'accademia, di comune accordo come fossero l'elica di un DNA che si sta formando stanno creando anche a Paola le condizioni per un miglioramento possibile? Sì per un miglioramento sicuramente almeno dal punto di vista della divulgazione musicale che è uno dei nostri primissimi obiettivi. L'associazione è nata nel 1986 per ricordare appunto questo giovane valente musicista Orfeo Stillo morto prematuramente a solo i 24 anni ma per svolgere un'opera di divulgazione soprattutto musicale, di promozione, di formazione. Ecco come ha visto all'interno dei nostri premi c'è un aspetto molto importante che è quella delle masterclass con docenti di grandissimo livello internazionale che noi offriamo ai giovani vincitori perché teniamo moltissimo al discorso della formazione e ci occupiamo da sempre di formazione non solo di formazione di base con l'accademia ma anche con l'organizzazione di masterclass e di corsi di alto perfezionamento per giovani già diplomati o diplomandi. Quest'anno tra l'altro abbiamo in questo settore siamo riusciti a realizzare un progetto molto importante che sono i corsi di alta qualifica professionale, il primo bando in Calabria sull'alta formazione artistica musicale coreutica che era aperto ai conservatori, accademie di belle arti e ad associazioni storiche con almeno 25 anni di attività ininterrotta, un nucleo artistico stabile, una direzione artistica di prestigio, insomma c'erano tanti paletti e devo dire che noi abbiamo partecipato, abbiamo vinto, abbiamo formato 30 giovani professionisti calabresi, abbiamo scelto di due figure nel ramo artistico, una del ramo tecnico per il ramo artistico direttori d'orchestra e maestri collaboratori e sostituti nei teatri d'opera e per il ramo tecnico esperti organizzatori eventi e abbiamo svolto qui nella nostra sede Palazzo Stillo Ferrara le lezioni, i laboratori e poi abbiamo portato i nostri giovani professionisti presso l'Asdlico di Milano Teatro Sociale di Como per uno stage che devo dire è stato per loro assolutamente formidabile, molto molto formativo e grazie anche a questo abbiamo creato questo partenariato con l'Asdlico che si è mantenuto come vede anche in occasione del concorso loro verranno anche in giuria a far parte della nostra giuria insieme a moltissimi altri docenti, direttori dei teatri, direttori artistici, promoter, discografici, editori insomma veramente nomi di primo ordine che il Maestro Stillo sta componendo per cui non vi anticipo nulla magari ci rivedremo per comunicarle prima dell'inizio del concorso Grazie, un ultimo punto finale perché quando una realtà è civica e pedagogica insieme tutta la società ne giova. Sì, noi crediamo assolutamente che la musica sia veramente utilissima ad il vivere civile, ad una società democratica, i giovani che studiano la musica, che apprezzano la musica, che frequentano ambienti musicali sono giovani indubbiamente migliori, sono proprio giovani più sereni, più rispettosi e quindi noi crediamo fortemente nel valore della musica, innanzitutto ne abbiamo fatto ragione della nostra vita e poi cerchiamo veramente di attivarci, di trovare, di inventarci di promuovere manifestazioni in cui sono spessissimo coinvolti i giovani proprio perché riteriamo che sia fondamentale per la crescita della società in cui noi abbiamo deciso di vivere in cui ci sono i nostri figli e veramente di dare quel contributo alla creazione appunto di un territorio migliore. È ovvio che non tutte le nostre attività sono rivolte ai giovani perché ovviamente in particolare la stagione concertistica ospita spesso artisti di livello nazionale, internazionale, quindi già artisti affermati che non sono sempre giovani. Ma comunque l'attenzione, l'incontro, la promozione del giovane talento ed in particolare il giovane talento della nostra regione c'è sempre e comunque. Questo è tra i nostri obiettivi principali per cui insomma personalmente sono contentissima di poter presentare questa decima edizione del concorso. Mi auguro veramente che le istituzioni continuino a starci a fianco. In questa edizione noi abbiamo il sostegno della regione Calabria, assessorato alla cultura e poi godiamo anche del patrocinio del comune di Paola e del comune di Cosenza che insomma ospiteranno appunto la settimana del concorso Paola e la serata finale Cosenza. A me non resta altro da dire che ad maiora. Io la ringrazio molto, aspetto naturalmente tutti al concorso e voglio solo ricordare che la scadenza ultima per iscriversi è il 5 maggio e il bando con la domanda di iscrizione, quindi tutto il regolamento, tutte le informazioni si possono trovare sul sito dell'associazione che è www.associazionestilo.it ma eventualmente si troverà anche lo stesso bando sul sito del comune di Paola, dell'assessorato alla cultura della regione e anche dell'università naturalmente. E da oggi anche sul nostro sito. Bene, grazie infinite per questo sostegno che ci date con la divulgazione del concorso. Grazie. Grazie a voi per quello che fate.